Intolleranzia fa tappa stasera a Pomarance insieme al tour di Ruffini per discutere di diversità. Cosa è emerso dai messaggi che hanno lasciato i ragazzi poi sul territorio, negli incontri all'interno delle scuole? Allora, i ragazzi sono stati molto proficui nel dire cosa pensano anche nei confronti delle tematiche appunto dell'intolleranza e dell'ansia, soprattutto che questo sentimento li porta a vivere quotidianamente. Molti sono appunto soffermati sulla rabbia, sul sentimento che emerge quando si trovano loro oggetto di intolleranza oppure loro a essere dalla parte di coloro che attaccano persone che magari vengono da altri paesi che hanno subito un processo di migrazione. Quanti sono i ragazzi appunto che hanno partecipato, che hanno risposto? Allora, i ragazzi era praticamente tutto l'istituto ITIS di Pomarance che è una sede di staccata qui sul territorio, è un istituto tecnico quindi si può immaginare la grande predominanza era maschile e ci sono poche ragazze che però hanno saputo esprimere il loro disagio anche su questi piccoli cartellini, su questi piccoli sfoghi che giustamente la regione ci ha fornito, ci ha fatto capire che sono messaggi anche interessanti da quali prendere spunto anche per capire meglio come lavorare con i giovani. C'è un messaggio in particolare che l'ha colpito? Sì, sì, è un messaggio che ci tenevo a far vedere, questa ragazza ha scritto praticamente il maschilismo, lo sclero, il nervosismo, le urla, il distaccamento dagli altri, la solitudine, l'ansia, la stress è difficile stare da sola in una classe di soli ragazzi, questo è un messaggio che mi ha colpito tantissimo perché immagino appunto anche il sentimento quotidiano che questa ragazza si porta dietro non avendo compagnie femminili con le quali condividere anche le piccole azioni del quotidiano. Quindi temi anche profondamente diversi che derivano poi anche da come ogni giovane si pone poi nei confronti della realtà quotidiana? Sì, temi completamente differenti, sempre legati ovviamente al filo conduttore, appunto questa voglia di vivere, questa voglia di condividere con gli altri, anche di scontrarsi e di confrontarsi soprattutto.